Siamo nella sede dell'Agbalt qui all'ospedale Santa Chiara. Tiziana Del Carlo, buonasera. Accanto a me è Romeo Cacciatore che è a nome di Pisanelazzura.tk. Avete visto questa banda di amici che anche quest'anno hanno prodotto un risultato importante. 2.440 euro che sono state consegnate e la nostra telecamera l'ha già inquadrata. Allora, un commento veloce. Allora, detto bene, la banda è una banda di amici. E noi tutto quello che siamo riusciti a fare, a portare avanti la costruzione soprattutto della nostra grande casa, è stato perché abbiamo sempre avuto accanto bande di amici. Questo è un momento particolare. Noi ci incontriamo ormai da diversi anni. E' un appuntamento fisso, un appuntamento al quale loro non sono mai mancati. Per cui possiamo soltanto dirvi grazie. E continuerete, spero, insieme a noi questo percorso. La prossima volta facciamolo tutti a residence insieme ai nostri bimbi. E' un incontro diverso, è un momento importante. E' una buona idea che sicuramente troverà consensi. Romeo, allora, siamo arrivati al quarto anno con mille difficoltà, ma sempre i soliti comunque a fianco per portare... Lo zoccolo duro esiste anche in questa esperienza. Motivati da un'idea nata quattro anni fa da Pisa nel Azzurro a punto di campo. Sì, un'idea nata dal sottoscritto, che poi ho trovato Maurizio Gagliardi, che mi ha dato una grossa mano nel mente creativa, nel realizzare quest'idea. E siamo qua, al quarto anno, anche quest'anno 2440 euro, e che si vanno a sommare agli altri, penso passino 10.000 euro a quattro anni raccolti per l'Agba. Sarebbe una sconfitta, mi diceva l'amico Buschetto, mollare adesso.